Biu, sapete? Benevento ha una storia tanto tanto antica ed affascinante! Un cartoon made in Campania per riscoprire il territorio insieme ai più piccoli. Caggiulino fa tappa Benevento dove l'amabile cagnolino esploratore ammira estasiato il maestoso teatro romano ed il trionfante Arco di Traiano. Qui incontra proprio l'imperatore Adriano per un istruttivo tuffo nella storia. Questo teatro fu commissionato proprio da me medesimo in persona e fu poi ampliato dal mio successore, l'imperatore Caracalla. Il cartone è un progetto colorato e vivace made in Campania dedicato ai bambini per scoprire e riscoprire tutti insieme anche in tempo di Covid delle perle più nascoste della regione. E' questo l'obiettivo perseguito dal simpatico cagnetto che gira alla scoperta del territorio italiano per raccontare ai più piccoli le peculiarità enogastronomiche, artistiche e culturali. In compagnia di Caggiulino vogliamo raccontare tantissimi tesori nascosti di tutta la regione, dichiara Antonio Ruoto, coordinatore regionale del progetto Campanum. Una regione a fortissima vocazione turistica ma dove sono ancora tantissime le attrattive e le peculiarità locali che seppur più lontane dai percorsi turistici mainstream conservano una suggestione ed un fascino che è tutto da scoprire. Il cartone animato è stato realizzato dall'informatico Emanuele Andrisani e dall'artista Gioiale Gargano con la supervisione di Antonio Ruoto. Ciao a tutti bambini e alla prossima avventura!